per il suo attamento, ricupriamo invece Franco Pelissotti che andremo a presentare tra qualche bel minuto, di mano di ore per lui, terza posizione che da questo momento in classifica generale guadagna centimetri su centimetri nella classifica generale, ovviamente secondi su secondi, ma ora la terza è la partenza, Manuel Quinziato!